non poteva iniziare meglio la stagione del caneo bis in casa turris i corallini battono nella gara inaugurale il benevento per 3 a 1 davanti ai propri tifosi che ritrovano la squadra che bene aveva figurato due stagioni fa sotto la guida del tecnico sardo il match inizia con gli ospiti intenti a partire bene trovano il vantaggio con pastina pronto a ribattere in rete un palone che meccariello aveva spedito sul palo eludendo la difesa il benevento controva senza problemi la partita e con bolsius sfiora il raddoppio ma fasolino devia in angolo reazione turris alla mezz'ora tiro al volo di cum benedetti intercetta col braccio ed è il rigore che magnero trasforma per il pareggio non passano nemmeno due minuti che di nuovo cum lasciato libero in aria colpisce al volo su cross di contessa ribaltando clamorosamente il risultato sul finire del primo tempo i saniti si fanno pericolosi ancora con meccariello che di testa colpisce la traversa la ripresa inizia con franco che da lontano spara un missile che centra in pieno l'incrocio dei pali poi il benevento prima con ferrante poi con ciano sfiora il pareggio ma al minuto 86 d'auria libero difensore entra in aria e con un tiro a giro piazza il palone alle spalle di paleari facendo esplodere lo stagio con il bellissimo gol del 3 a 1 finisce con il tributo dei tifosi che festeggiano così il bel esorio in campionato della turris attesa ora dalla difficile trasferta contro il quotato crotone grazie